Facciamo il punto della situazione economica. Facciamo il punto della situazione economica e portuale con il direttore generale Spediporto Gian Paolo Obotta. Come sempre ringraziamo per la disponibilità. Grazie a voi. Partiamo, è necessario dalla situazione autostradale, si preannuncia un agosto difficile e al netto di questo cosa pensate della possibilità di nominare un commissario o comunque di tentare di sbrogliare questa situazione così? Nel momento in cui un territorio si trova a vivere in momenti di straordinaria urgenza è naturale individuare soluzioni altrettanto straordinarie. Quindi quella del commissario è una scelta quasi dovuta, doverosa per questo territorio alla luce dei gravi disagi che ormai da mesi stiamo patendo. Tutto il territorio sta patendo, non soltanto Genova ma tutta la Liguria. Era stato ampiamente preannunciato, l'avevamo previsto, se ricordate già lo scorso anno di questi tempi avevamo purtroppo ventilato la possibilità di mesi molto duri e di anni che avrebbero fatto soffrire la Liguria dal punto di vista della circolazione stradale e autostradale. Questo purtroppo si sta confermando, la scelta di un commissario penso sia una scelta da una parte doverosa e dall'altra dovuta per cercare di trovare finalmente un coordinamento tra amministrazioni, tra enti che devono agire sul territorio per il ripristino della rete autostradale, soprattutto tra cittadini e operatori del porto al fine di trovare quel giusto equilibrio o compromesso, se vogliamo dire così, tra necessità legate alla sicurezza che sono sicuramente prioritarie ma anche necessità di tipo operativo che non possono essere rinviate oltre. Un'altra situazione che riguarda la portualità e che non è affatto secondaria è il Covid ancora non si è usciti dalla pandemia nonostante in corso le vaccinazioni, ci sono le varianti a preoccupare, Delta, Lambda, ecco come affronterete il prossimo futuro? Al netto del fatto si parla di ripresa nel vostro mondo e voi intendete affrontarla, immaginiamolo in modo giusto? Sì, questo non è un tema secondario perché il tema del Covid ha visto il settore della logistica in prima linea pensiamo soltanto a quella che è la distribuzione dei vaccini, si basa su un sistema di efficiente logistica della distribuzione che ha consentito al Paese di poter soddisfare una grande esigenza di vaccinazioni in un arco temporale tutto sommato ristretto e già prima lo era stato con i pressidi medici, le mascherine piuttosto che i respiratori. Il problema nasce dal fatto che pare che il mondo torni a macchia di leopardo in lockdown quindi questo aspetto ci spaventa molto perché abbiamo visto quali sono stati gli effetti della prima ondata con la chiusura di molte attività produttive in Cina e il conseguente problema degli approvvigionamenti di materie prime e di prodotti finiti. Il problema è che è ancora tuttora esistente perché se proviamo ad andare a chiedere ai magazzini che distribuiscono beni, qual è il loro stato attuale ci diranno che non hanno merce in magazzino cioè c'è proprio un problema di approvvigionamento di materie prime e di beni da distribuire che è una delle conseguenze del Covid e del fatto che il mondo va a singhiozzo la produzione va a singhiozzo, la distribuzione va a singhiozzo si creano spesso intasamenti e questo ha favorito anche un incremento dei costi del trasporto che certamente avrà un impatto anche sulle tasche degli italiani perché nel momento in cui ci troveremo a dover saldare il conto della logistica questo porterà sicuramente ad un innalzamento dei costi medi al dettaglio e questo è un tema non soltanto genovese ma un tema del Paese come poter affrontare un incremento del costo della vita a fronte di un periodo dove sicuramente ci sarà un forte incremento degli investimenti ma questo forte incremento degli investimenti deve avere immediatamente un impatto sull'economia reale per consentire alle persone di trovare dentro il portafoglio i soldi necessari a pagare di più un prodotto sul tavolo Prima della pandemia si parlava di via della seta questo discorso in qualche modo si è interrotto con che occhi guardate alla Cina, con che fiducia in questo momento storico? La Cina ha continuato a lavorare sul tema della via della seta ha continuato a mettere in opera in esecuzione i cantieri che sono poi la dimostrazione reale della volontà di questo Paese di proseguire nel suo obiettivo quindi l'Europa non può rimanere a guardare l'Europa ha a disposizione ingenti risorse per rilanciare l'economia certamente il tema delle infrastrutture, il tema degli investimenti nelle infrastrutture nell'industria, nei servizi diventa un tema centrale per poter garantire all'Europa, all'Italia e anche al nostro territorio una ripresa soddisfacente quindi il tema della Seacrodo non può essere abbandonato ma anzi bisogna recuperarlo laddove la Cina lo ha portato perché ripeto l'anno continuato a lavorare su questo progetto Un altro tema che è arrivato con laterale ma in realtà si stava già sviluppando prima della pandemia è senza dubbio la digitalizzazione raccontiamo un po' quella che è la situazione ad oggi quello che auspichereste diamo però un occhio anche ad un aspetto il contraltare della digitalizzazione che sono gli attacchi informatici a Big Data e a tutto quello che sta comportando abbiamo sentito comunque di attacchi a sistemi informatici che riguardavano i porti insomma facciamo il punto su questo Genova in questi giorni ha fatto una scelta importante e coraggiosa unica in Italia quella di arrivare ad un'ordinanza dell'autorità di sistema portuale che prevede la totale digitalizzazione in tutta la documentazione che serve ad assistere le merci in fase di esportazione e di importazione è il primo caso in Italia quindi abbiamo dimostrato come comunità di operatori la volontà di spingere sull'acceleratore cercare di eliminare la carta è evidente però che in questo modo ci stiamo esponendo anche ad un rischio quello legato proprio ai cyberattacchi se non fosse che già da tempo la comunità degli operatori le società che lavorano alla digitalizzazione del porto hanno mostrato sempre grande attenzione grande scrupolo nell'affrontare la questione della cyber sicurezza sono anni che non solo ne parliamo ma sono anni che ci siamo attrezzati al fine di superare queste difficoltà noi quotidianamente non ne parliamo ma noi quotidianamente riceviamo decine di attacchi hacker nei nostri sistemi questa è una quotidianità perché i tentativi di entrare nei nostri sistemi sono veramente quotidiani e si contano a decine al giorno sono attacchi però di entità tutto sommato sostenibile nel momento in cui gli attacchi dovessero diventare più sofisticati magari portati avanti anche da soggetti più capaci il tema è sicuramente notevole perché muovere decine di migliaia di contenitori in un mese milioni di file all'anno significa comunque avere un indice di rischio molto elevato e quindi di conseguenza le scelte sulla sicurezza devono essere adeguate Esempi passati come ad esempio Porto di Barcellona, San Diego insomma parliamo di qualche anno fa senza dubbio e da lì ad oggi i sistemi di protezione sono avanzati moltissimo immaginiamo Sì certamente è ovvio ogni volta che si subisce un attacco hacker si acquisisce esperienza e quindi di conseguenza così come il livello di sicurezza aumenta aumenta anche il livello di strategia che gli hacker adottano per riuscire a vincere e superare gli ostacoli che gli informatici mettono in campo per evitare questi disastri è una partita ancora aperta è ovvio un rischio corrente l'abbiamo visto cosa è successa alla Regione Lazio in questi giorni non possiamo altro che mettere in campo le nostre migliori risorse informatiche per cercare di respingere nel quotidiano gli attacchi che già subiamo Noi torniamo tra qualche minuto qualche minuto ancora qui